Io sono Alessandro Corona, vengo da Milano, ho scelto Castalimenti perché volevo intraprendere un percorso formativo nell'alta formazione come pasticcere, sto investendo in questo lavoro perché vorrei aprire una mia attività, Castalimenti è una delle scuole migliori che ci sono in Italia e in Europa e quindi ho voluto cercare un percorso formativo di alto livello. In questo momento mi trovo in Castalimenti perché stiamo facendo gli esami di fine percorso, io vengo adesso da Martesana, ho fatto il mio tirocinio all'interno di questa azienda Milano, è andato tutto molto bene, sono stati quattro mesi molto intensi dove comunque siamo entrati proprio come lavoratori, neanche come saggisti, siamo proprio entrati a lavorare all'interno dell'azienda, nel laboratorio. Io personalmente mi sono trovato molto bene, ho legato moltissimo con tutti i ragazzi che lavorano all'interno dell'azienda, è stata un'esperienza assolutamente fondamentale e quello che posso dire, senza il tirocinio l'esperienza formativa in Castalimenti non sarebbe completa, il tirocinio è fondamentale, i mesi di tirocinio sono fondamentali per completare il percorso formativo, senza i quali non sarebbe la stessa cosa, mi sentirei completo alla fine di questo percorso. Dopo l'esperienza formativa in Castalimenti il mio lavoro continuerà nella pasticceria veneto del maestro Eugenio Massari, ho voluto fare un ulteriore stage per ampliare le mie conoscenze, la mia esperienza lavorativa e questa esperienza è stata una grandissima esperienza professionale ma soprattutto umana. Io ho scelto Castalimenti, e tu?